I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, per me liberi dall'angio e me vieni, coltimi da me e a me misericordia, Signore, perché sono poveri soli, diventa un moloch e tutto viene mangiato, mi sembra di pensare a quei film lì in bianco e nero tedeschi, muti, metropoli, quelle cose lì. Niente è contro il sistema. Il sistema fa in modo che ogni cosa, anche contro se stesso, renda, renda. Il sistema fa in modo che ogni cosa, è un poveri soli, gloria e lì, non è capace di farlo, bene, non è capace di farlo, non è capace di farlo. Grazie a tutti.